Quando vuoi? Selinunte è ancora più bella, ancora più magico. Il parco archeologico si prepara a una stagione che in realtà è già cominciata con gli studi delle università. Abbiamo New York, abbiamo Bonn. Ma i tanti visitatori possono scoprire anche qualcosa di nuovo, i nuovi percorsi, le residenze di artista che ci saranno dal lato di Priscina. È una nuova sinergia con il territorio, con gli enti locali, ma anche il piacere di poter gustare una visita serale, magari intervallata da un momento di spettacolo, da un evento culturale. È la possibilità di ammirare i templi selinuntini, gli antichi templi greci, e ascoltare note magiche. Ecco, tutto questo sarà a Selinunte in questa stagione e ci auguriamo che siano veramente tanti i visitatori che verranno nel parco archeologico, che sta facendo un grande lavoro. E posso dire che è un lavoro che unisce l'antico con il contemporaneo. Lo abbiamo detto qualche settimana fa in occasione dell'accordo con la Fondazione Orestia di Congi Bellino, lo ribadiamo adesso. Il contemporaneo è la vita oggi del presente, che viene dalla pietra, che viene dall'antico. Questa è la selinunte che amiamo presentare al mondo.